Ah, avevo detto facevamo gameplay da mago, no? L'ho provato, l'ho maxato, ma l'ho messo nel ripostiglio, ma diciamo che fa parte di quella serie di problemi di Dragon Storm. Non mi piace per nulla, concordo, ma più che altro sai che è che... Ok specializzare le vocazioni, il dargli un ruolo, però comunque tu dovevi dargli quel sapore in più. Ergo, il guerriero ha attacchi caricati, ha le combo, ha l'attacco pesante, ha il riposte, ha il perry, ha il perry quello figo, ha della mobility, ha delle robe. L'arciere ha il colpo più caricato, più forte, ha le sue varie skill, ha se salta mentre attacca fa la schivata, ha l'auto aim, vedi il ladro, ha 18 miliardi di presi, 18 miliardi di crit, 18 miliardi di modi per aggrapparsi pure con gli attacchi. Mago e anche stregone purtroppo... Questo ha. E questa roba qui tra l'altro è stato peggiorato rispetto a Dragon's Dogma 1. Non ti fa capire chi cazzo stai mirando. In più se ci aggiungi la cosa che invece di averci sei incantesimi ce ne ha quattro, ci avrebbero potuto fare la figata del... La cura invece di renderla skill unica del mago, avrebbero potuto metterla all'interno degli incantesimi e come skill unica sia di mago che di stregone, mettimi il cambio di palette. E io clicco, passo da quattro incantesimi ad altri quattro incantesimi. O appunto pure di più, cioè magari mi fai girare, che ne so, gli fai cacciare fuori una sorta di grimorio, fogliano la pagina, però si torna a quel discorso che forse hanno tagliato delle cosettine proprio per rendertelo un po' più così, però appunto ti manda a fanculo quella classe, no? Io ho notato anche questa cosa, hanno ridotto veramente tanto all'osso il repertorio degli incantesimi, il che è un peccato perché... Cioè io oggi ho finito il copione del nuovo video sullo stregone e ci stanno talmente tante chicche e cazzate che puoi fare tra tornati, pietrificazioni di massa, lentezze di massa che se infliggi due volte di fila proprio stoppano per uno o due secondi le persone. Boh, io devo capire onestamente. Devo capire perché devo capire se anche qua ci sono stati dei cut grevi o boh. Perché molte cose sarebbero state semplicemente da copia e incolla. Manca tutta la magia, ma manca anche quella sagra, eh? Cioè tipo tu non puoi metterti l'enchant sagro, l'enchant oscuro. Poi vediamo con i DLC, però se mi hanno fatto poi che nei DLC mi ampliano tante tante cose, la mi incazzo, eh? Io ho detto, io Dragon's Dogma 2 ce l'ho nel cuoricino. Io Dragon's Dogma è nel mio cuoricino, però quando poi finirà e anche mi deroba se ne parlerà di queste cose. Perché ok voler fare il tuo sei all'interno di un party, va bene, però non devi rendermi il personaggio stupido. Non devi fare delle cose per rendermi tutto inutilmente stupido. Adesso per esempio sono ore che non cambio gli incantesimi della pedina, perché tanto quelli sono i più utili. Eh, perché poi è la cosa che del dare soltanto quattro incantesimi, soprattutto per gli stregoni e i maghi, ti fa finire in quella situazione dove io non vado a mettermi altra roba. Perché? Perché un palladium che mevara il culo al mago e a tutto il party, un enchantment all'arma, un cazzo di roba che ti spara il ghiaccio sotto al culo, cioè ci sono delle robe che tu devi avere. Avrebbero potuto appunto fare una roba molto più furba nella gestione dei comandi. E questa è una roba che la sto sentendo sempre di più, perché già si sente in minor parte in ambito dell'arciere, ma gli incantatori hanno proprio lo stecchetto corto. Cioè, potevano fare talmente tante robe, anche nelle piccole combo del cazzo, che è un po' un peccato. Voglio delle motivazioni che spero non siano semplicemente, guarda, abbiamo tolto la roba per questioni di cut content o di altre robe che non... Cioè, è semplicemente che è stupido. E quella la roba è stupido. Paradossalmente l'unico che ci ha guadagnato da sta cosa è stato il distruttore. Che invece c'è una 3, c'è una 4. Cioè, l'unico modo in cui li vedo utilizzati per bene, ma neanche tanto, magari è con un eroe leggendario. Però il fatto è che l'eroe leggendario pure la vedi cazzata, perché non farmi molto la Dragon's Dogma 1? Perché io mi sono venuto alle orecchie delle cose, e l'avevo anche intuita, del per renderlo bilanciato, oltre al fatto che tu non puoi equipaggiare le ultimate, da quel che ho capito, tu non è che hai molto la Dragon's Dogma 1, no? Ogni arma ha il proprio albero. Quindi se io passo a spada e scudo, ho la palette di spada e scudo col cazzo. Tu hai la skill per ciclare la roba, e poi 3 slot. Questa è un'altra cazzata. Questa onestamente è un'altra cazzata. Quando potevano fare magari, molto alla Dragon's Dogma 1, dove tu hai la classe ibrida, che questa è veramente la classe ibrida, permettimi di avere tutte le skill, tra virgoletto. Io, man mano che vado avanti, mi ampli l'albero. Io sto all'1 con la vocazione dell'eroe leggendario, sblocco soltanto le skill che avrei sbloccato all'1 di ogni vocazione. Al 2 così, al 3 così e compagnia. No, ma infatti le ulti le posso anche capire, perché quelle sono lapise, ok? Però io capisco che se tu avessi fatto una roba del genere, se sarebbe utilizzato soltanto l'eroe leggendario. Anche se pure là, onestamente, avrei anche da ridire, eh. Perché per bilanciarlo avrebbe potuto pure fare semplicemente che tu devi avere per forza riarmamento, però gli altri 3 slot ci puoi mettere il cazzo che vuoi tu, no? Però hanno fatto tutte queste robettine, sembra sempre per darti le botte sulle ginocchia. Cioè, è per quello che un po' ci rimango... Perché non è il non abbiamo avuto tempo o altro, sembra proprio il io ti sto tirando una schiccara sulle ginocchia perché sì, io potevo gestirmi meglio la rosa dei comandi, ma non l'ho fatto perché ti voglio dare quella roba del tu non devi essere overpowered. Però che problema c'è ad essere overpowered? Cioè, sarebbe stato veramente tanto l'apice. Poi è bello che tutte queste cose, ripeto, non è che sono robe nuove, eh. Sono robe che tu avevi in Dragon's Dogma 1 e Dragon's Dogma Online. Cioè, il metterti lo stregone che effettivamente switcha palette più e più volte, il mago idem, i compagni, erano robe che tu potevi fare tranquillamente. Ma come la cazzata anche di... Perché l'arciere ha un'abilità che viene utilizzata con L3, ma nessun'altra classe la fa sta cosa? Tu magari sull'R3 potevi mettere sul guerriero e sul distruttore che ti faceva rampa. Ho visto che sono vocazioni da tank, mi fai fare un'altra combo di tasti e invece di dovermi equipaggiare tamburo di scudo e ruggito, faccio tamburo di scudo e ruggito. Anche perché poi l'hai fatto vedere come cosa, no? Tenendo premuto l'attacco leggero, io posso fare sbalzo del cinghiale. Però perché allora non mi hai aggiunto tutto quell'altro fettone di combo che c'erano nel primo? Attacco, pausa e mi fai un attacco unico? Tenendo premuto il pesante mi fai un attacco unico? Ce le avevi, potevi implementarle. E sarebbe stato un gameplay ancora più bello, perché il gameplay di Dragon's Dogma è figo, è bellissimo, è divertentissimo. Però se tu sei un vet del primo, si vede che hanno tenuto il guinzaglio, non l'hanno... Eh, l'hanno tenuto... L'hanno tenuto strettino. Ed è un peccato, perché cose come il ladro sarebbero diventate ancora più fighe. Il fare 1-2 l'esplosioncina col pesante tenendolo premuto, il fare leggero pausa, leggero per dare la combo di calci, per fare i contundenti contro cose che sono deboli al contundente o per rompere le difese. Ce le hai! Appunto, come dicevo prima, Elda, purtroppo poi questa roba ti arriva dietro al collo delle vocazioni magiche. Perché? Perché le vocazioni magiche non hanno nulla di questo. La vocazione magica ha con l'attacco del pesante, la propria azione di classe, che è la cura, o il galvanizzare per la stamina. Il fatto che mentre sto in volo non posso velocizzare l'incantesimo. Perché? Però vedi sta cosa, se poi con un possibile Dark Harisen, quindi uscirà poi in futuro un Dragon's Dogma 2 Dark Harisen, è una cosa che mi fa incazzare. Però vediamo. Perché il piatto è tenere letteralmente il guinsaglio stretto, è aver torto apposta delle cose qua e là, che è un peccato. Perché ovvio tu non mi devi rendere il mago come il guerriero. Che poi appunto, come dice Lonnie, che poi sei lo stesso overpowered, sì, perché spacchi tutto perché spacchi tutto. Tocca a vedere, perché c'è questa serie di mazzettate sulle ginocchia, che si sono tirate da soli. Che non capisco. Onesto, tu hai uno standard. Attacco. Attacco caricato. Attacco con pausa. E questo c'ha una variazione, anche nel pesante. Fallo. Mettila. Se tu c'hai il sto con il tasto della skill e premo R3, fammelo per tutti. È come in Dragon's Dogma 1. In Dragon's Dogma 1, ogni vocazione, tranne le magiche perché hanno rimasto indietro, avevano il attacco, attacco con pausa, pesante, pesante caricato. Cioè, tu potevi fare che se facevi colpo, pausa e di nuovo colpo, il mago faceva come nel primo che si circondava di piccole spere elementali, no? Non è delusione, è confusione. Perché la roba ce l'hai. Il fatto è che forse dovevi fare tutta roba nuova, ok? È roba che hai. Però veramente che si stemmino tutte ste cose? Poi a sto punto non lo so, perché le vie che possono prendere sono due. Se mi dicono il, l'abbiamo fatto apposta per dare mood, è da prendere a testate. Perché finché mi dici una questione di camminare, esplorazione, tutta quella roba lì, ok. Però se mi dai le botte sulle ginocchia apposta, no. Quello mi dispiace. Non va bene. Anche perché tu la roba ce l'hai. Io capisco molte volte che oggigiorno hanno il terrore, del bilanciamento, però da una parte anche sti cazzi. Da una parte stiamo in un cazzo di PVE. Cazzo si chiama l'eroe leggendario, io non ho idea di come cazzo si sblocchi. Poi se si chiama l'eroe leggendario, che è tipo un tuttofare, no? È una sorta di jack of all trade. Deve essere un jack of all trade. Cavolo. Sarebbe stato molto più interessante il... Tu come vocazione hai sempre sull'L1X il cambiare arma, il cambiare vocazione. Quindi ogni tua vocazione può averci in massimo tre cose. E sarebbe stato fighissimo. Anche perché poi pure la vedi, ti torna ill. Io magari voglio fare robe interessanti, ma non posso perché c'ho soltanto tre slot. In realtà ci sarebbe anche da parlare dell'altro lato, eh. Perché noi parliamo soltanto delle skill. Però le armi invece sono fighe. Perché tu tecnicamente potendo cambiare vocazione e armi, hai tutte le core skill. Quindi tu puoi fare un colpo caricato con l'arco, attaccate con i pugnali, fare attacchi pesanti con lo spadone. C'hai tutto quell'altro repertorio di core skill. Ok, però cazzo. Questo anche per rispondere alle persone, che tra l'altro su TikTok una persona mi ha detto no, ma perché il motivo per cui è stato criticato al day one sono stati i bug e le ottimizzazioni, le prestazioni, che da una parte è pure vera. Però poi mi ha detto no, ma perché non esistono? Quelle sono cose che vi siete fissati là, ma sono cose che non sono mai esistite. Quando al day one era pieno di microtransazioni. Gente con 0.1 ore, con le microtransazioni. Questo per dirti che vedi che se ne parla anche dei problemi di Dragon's Dogma, perché Dragon's Dogma ce l'hai cazzo di problemi. è un po' di più.